5, 3, terza 5, 3, terza 5, 3, terza 6, terza Abbiamo voluto creare questo film per poter portare un messaggio e farlo raccontare da una delle voci più famose italiane, la voce di Iron Man, Tom Hanks, Bruce Willis e anche la voce di Woody di Toy Story 4, il grande Angelo Maggi, che racconterà nel nostro film a una bambina curiosa la storia del circo che salvò gli ebrei dalla Shoah e in particolare la storia di sua madre. 5, 3, terza La collana apparteneva a mia madre Sei mai stata al circo, piccola? Sì, la mamma mi ci ha portato qualche volta Anastasia, io sono cosa, i bambini li portano, ci coniescono le banche? Non è tutto oro quello che luccica Erano comunque tempi molto difficili per noi ebrei Signor direttore, crediamo di aver riconosciuto la ragazza che è caduta nel primo numero Quella ragazza, signor direttore, l'ebrea che lavorava come assistente qualche tempo fa Se lei ci consegna l'ebrea, noi potremo chiudere un occhio nei suoi confronti Stamattina abbiamo fatto giusto in tempo I soliti tre colpi alla porta del carrozzone, il che vuol dire andate a pescare La polizia sta per arrivare E non sempre avvisano prima di arrivare La polizia sta per arrivare La polizia sta per arrivare